e lascia i concorrenti in ritardo al loro posto. Va in partenza la seconda corsa di Palermo. Seconda corsa di Palermo, femmine e maschie di tre anni sulla distanza del Miglio e il momento dello stacco. C'è l'errore di Stile del Nord, scusate c'è l'errore di un altro cavallo, non era Stile del Nord, perché Stile del Nord è il cavallo che va davanti con Salvatore Rosta Junior a precedere Sincera Efein. In terza posizione si è sistemato Silvano Lux, mentre ripiega per cercare posizione. Mentre si trova, vediamo un po' cavalli che vengono squalificati, comunque il numero 5 si tratta di Samba Patì, mentre in avanti c'è Stile del Nord nei confronti di Sincera Efe con Andrea Buzetti e Insediolo, poi in terza posizione Silvano Lux, a seguire Sonrisa e poi il 7 di Svensson. Diversi cavalli hanno sbagliato, infatti la fila è piuttosto allungata. Sta filando via il battistrada 44,2 sul mio cronometro per i primi 600 metri, un'andatura davvero notevole per la categoria sotto l'1,14 con Stile del Nord, che infatti tende a prendere vantaggio su Sincera Efe che ha difficoltà a seguire un'andatura così sostenuta. Dietro Sincera Efe c'è sempre Silvano Lux, più indietro la favorita che è Sonrisa. Primo chilometro addirittura 1,13 per Stile del Nord che ha davvero messo in campo un primo giro molto sostenuto e quindi ha preso vantaggio. Adesso però prova a replicare per linea esterna la favorita Sonrisa, ma Stile del Nord continua a mantenere un margine tutto sommato ancora importante, però mancano circa 300 metri a traguardo e la fatica visivamente comincia a farsi sentire. Salvatore Rosto Junior lo chiama ad un ultimo sforzo, ma il gap da Sonrisa tende pericolosamente a diminuire ed infatti Sonrisa corona il suo inseguimento e nei pressi del traguardo riesce a regolare abbastanza chiaramente Stile del Nord che conclude secondo nei confronti di Silvano Lux. 1,59 e mezzo sul mio cronometro, quindi qualche decimo sotto l'1,15 per la vittoria di Sonrisa favorita a quota di 1,46, Gasparalo Verde in sediolo, training di Francesca Croce, i colori della Bimag SRL, ottima la prestazione di Stile del Nord che è un po' mancata negli ultimi metri, ma è andato forte come non mai ed ha chiuso al secondo posto nei confronti della voce del campo, tutto sommato più che confermatasi quella di Silvano Lux. in numeri 9,6,8 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della seconda corsa di Palermo.